Sono Francesca Bergesio, ho quasi 19 anni e da poco sono stata eletta Miss Piemonte 2023. Diciamo che questo percorso di Miss Italia è stato un percorso magico e speciale che mi ha dato tanto. Io ho deciso di iscrivermi a Miss Italia a fine maggio del 2023, soprattutto per mettermi in gioco, per iniziare anche un po' a sfidare me stessa e da lì in realtà è nato proprio come un gioco, come un divertimento ed è diventata poi una cosa molto seria perché io da lì ho iniziato a vincere diciamo le varie selezioni, quindi ho passato la selezione provinciale a Torino, quella regionale vincendo il titolo di Miss Miluna Piemonte Valle d'Aosta Venaria e infine ho vinto anche la finalissima regionale diventando Miss Piemonte. Quindi è stata un'emozione incredibile e adesso vado in finale Miss Italia. Fin da piccolo ci insegnano i vari canoni, i vari standard di bellezza che sono quelli di una bellezza oggettiva. Diciamo che fortunatamente, soprattutto negli ultimi anni, questi standard li stanno abbattendo ed è molto bello perché noi in Passerella non portiamo solo la nostra parte esterna, quindi una bellezza oggettiva, ma sicuramente anche una bellezza interiore, noi portiamo la nostra personalità e il nostro carattere sulla Passerella ed è molto bello. È stato proprio un percorso pieno, proprio a 360 gradi l'ho vissuto perché avendolo preso proprio come inizialmente come un gioco, come un divertimento, io non ho mai avuto aspettative o qualsiasi altra cosa, quindi mi sono proprio lasciata andare e ho dato tutta me stessa. Certo, magari ci sia anche un tipo di bellezza fisica, sicuramente la mia altezza anche contribuisce assolutamente a questo titolo, però penso che io sia riuscita a colpirli anche grazie alla mia interiorità, quindi io sono riuscita a tirare fuori proprio in Passerella forse anche la mia raffinatezza ed eleganza nella camminata, ma anche parlando semplicemente e quindi penso che in questo modo io sia riuscita a colpirli. Ho finito il liceo classico europeo quest'anno, mi sono diplomata e ovviamente ho deciso di continuare gli studi. Fin da piccola il mio sogno è stato quello di studiare medicina da grande perché volevo proprio compiere questa missione, diventare una dottoressa per poter curare e salvare anche le vite e quindi ho deciso di iscrivermi a medicina e inizierò a frequentare medicina in inglese quest'anno e ovviamente vorrei riuscire ad affiancarlo anche al mondo della moda che grazie a Miss Italia è diventata una vera e propria passione per me. La mia quotidianità è fatta principalmente dalla mia famiglia, da mia mamma, mio papà e mia sorella. Loro mi supportano sempre, ci sono sempre per me, stanno sempre al mio fianco, non mi lasciano un secondo. Poi ovviamente in questi cinque anni e anche negli anni passati era la scuola, la mia quotidianità. Io ho vissuto in convitto Torino e quindi logicamente vivevo e dormivo all'interno di una scuola, quindi era quello. Adesso, soprattutto in questa estate, la mia quotidianità è cambiata perché grazie al percorso di Miss Italia ho iniziato a inserire all'interno anche la moda, quindi magari le foto, i video, le passerelle e diciamo che mi sta piacendo molto. Con mia sorella un rapporto meraviglioso. Io e lei siamo cresciute insieme e ringrazio i miei genitori che non ci hanno mai divise in ogni istante proprio, sia anche quando io ho deciso di andare in convitto per studiare a Torino, lei mi ha seguita a ruota nonostante facesse ancora le medie e da lì proprio si è installato un rapporto incredibile. In più siamo anche molto vicine di età e quindi questo aiuta tantissimo. Siamo quasi due migliori amiche, sì. Io e mio padre siamo legati ovviamente da un legame di cuore e di sangue molto stretto e io, nonostante non ci assomigli fisicamente, magari anche diviso tutto quanto, di carattere a lui siamo identici. Siamo due persone molto riservate e determinate e quindi io ho imparato tanto da lui. Diciamo che certe volte sì, mi individuano un po' come la figlia di ed è una cosa che non mi piace molto, nel senso che mi porta anche, magari mi penalizzano per questo più che un aiuto. Ci tengo sempre a dire che io e lui siamo due persone totalmente separate, nel senso che lui è una persona con i suoi sogni, le sue passioni, i suoi obiettivi e io totalmente un'altra. Quindi diciamo che ognuno ha un po' la sua strada. Il mio sogno, allora innanzitutto, essere felice e realizzarmi nella mia vita. Vorrei studiare medicina, quindi di diventare specializzarmi, diventare una dottoressa a tutti gli effetti senza tralasciare mai il mondo della moda, soprattutto quello delle passerelle e delle sfilate che mi affascina molto.